Condivido volentieri anche perché mi sembra un giusto modo di ringraziare per l'invito. Noi abbiamo fatto sette investimenti in start-up, prevalentemente di provincia universitaria, che hanno 44 dipendenti di cui 22 donne, ma soprattutto 4 su 7 responsabili di ricerca e sviluppo sono donne e 3 su 7 di presidenti delle società sono donne. Ci ho fatto una riflessione proprio adesso, non mi hanno reso conto in passato. Questi dati non è che siano magici, ma sono un elemento positivo che dimostra che si può fare. Quindi se uno dei temi di questa iniziativa, di questa organizzazione, è quello di promuovere il ruolo della donna all'interno di ricerca scientifica, io non posso che dire che si può fare, quindi non è che non si possa fare. Si tratta ovviamente di creare le condizioni più adatte. Vorrei dire un paio di cose, facendo una premessa. È sempre molto difficile quando si parla di temi così importanti nel nostro Paese, essere ottimisti e non cadere nella depressione dei tanti problemi che abbiamo. Però dall'altro lato è qui che viviamo, per cui bisogna capire un po' cos'è che si può fare concretamente. Io non credo che noi ci si debba inventare grandi cose, perché è sufficiente guardare a realtà che hanno avuto la capacità di sviluppare modelli di successo nella promozione dell'innovazione tecnologica. Mi riferisco soprattutto agli Stati Uniti. Gli elementi fondamentali che io vedo, che sono poi quelli che in qualche modo richiamava l'intervento iniziale della professoressa Maggi, secondo me sono la dimensione, cioè è illusorio pensare di fare attività di investimento in iniziative ad altissimo rischio, quali quelle che investono su nuove tecnologie, con strumenti finanziari da 5, 6, 10 milioni, 15 milioni. Cioè sono cifre assolutamente ridicole, certo non possiamo pensare in Italia di raggiungere i risultati e le dimensioni degli Stati Uniti, però sicuramente si può fare qualcosa di più e in questo senso un'indicazione che secondo me va fatta, va data, perché in questo processo diciamo di disaggregazione, di frammentazione delle iniziative siamo un po' responsabili di tutti, cioè sono responsabili i soggetti privati che gli danno vita, sono responsabili i politici, perché non so se lo sapete, ma ormai abbiamo più di una decina di fondi di venture capital da 3-4 milioni, promossi da province, comuni, distretti, cioè uno si sveglia la mattina e fa un fondo di venture capital da 3 milioni, poi va a vedere un attimo il conto economico e scopre che 5 anni di emolumenti del Consiglio di Amministrazione si sono già mangiati in metà della cifra di disposizione. E il problema della dimensione è legato al problema delle risorse che poi devono gestire questo tipo di investimenti. E questo è un altro dei temi sollevati al processo a maggio, cioè diversamente dal private equity dove esiste una leva operativa fantastica, enorme, che è data dall'azienda, cioè il private equity investe in un'azienda che esiste, che spesso ha un imprenditore, se l'imprenditore esce il private equity è in grado di portare dentro un manager qualificato e comunque c'è una tecnostruttura, esiste un corpo già tecnico vivente e capace di gestire l'azienda. La start-up fondata su una nuova tecnologia nasce spessissimo attraverso l'iniziativa di persone che nella vita fanno altro e quindi non possono sicuramente inventarsi e francamente sconsiglierei ogni processo di trasformazione, cioè io sono per il principio che ognuno deve fare il suo mestiere, a Milano dite off and effort, io sono siciliano, scusatemi, il dialetto non l'ho ancora imparato bene. Quindi il venture capital, appunto, diversamente dal private equity invece ha la necessità di un'elevata seniority. Elevata seniority significa che per gestire 100 milioni di buyout puoi lavorare con due persone sopra i 40 anni. Per gestire 100 milioni di venture capital devi avere almeno 6, 5, 6 e si tratta spesso di risorse qualificate sul piano finanziario ma anche sul piano tecnico-scientifico o comunque con esperienza industriale, quindi hanno un costo. Allora è sufficiente fare due conti per capire che la dimensione vitale minima di un fondo di venture capital è 50 milioni, quindi inventarsi fondi da meno di 50 milioni non ha senso. L'ultima cosa che volevo dire invece è cosa si può fare rispetto al rapporto tra noi e il mondo accademico. Non è un problema di contaminazione, quella per carità deve esserci anche, cioè noi nel nostro team abbiamo, io ho preso per fare il team nostro, per noi il venture capital è stata una novità, l'abbiamo iniziata tre anni fa, sono andato a prendermi due ingegneri, uno aeronautico, uno invece elettronico e non avevano mai fatto finanza e abbiamo costruito sulle competenze di queste due persone, entrambi quarantenni, dandogli una mano con tutte le altre persone che venivano dal mondo dei buyout e che le erano sostenuti. Quindi non è un problema di contaminazione, è un problema di approccio, certo da parte di chi fa finanza che non può avere la pretesa di avvicinarsi a queste iniziative senza capire neanche lontanamente di cosa stiamo parlando. E da parte però dal mondo universitario dove non posso, rispetto al quale non posso non dichiarare ancora il mio stupore quando mi vedo comparire persone di grandissimo standing che sono capaci di indagare sul DNA piuttosto che fanno delle ricerche straordinarie sulle nanotecnologie e poi si trovano imbarazzati a dover presentare quattro numeri di un conto economico. Ora capisco che è una cosa nuova però io quello che ci vedo, che ci ho visto sino adesso, è sostanzialmente la mancanza di interesse cioè non è la difficoltà di presentarsi e che molto sinceramente non vi interessa granché cioè voi forti della vostra intelligenza, forti delle vostre ricerche, venite da noi e pretendete che noi capiamo cosa voi state facendo e che ci accontentiamo della vostra visione purtroppo noi siamo persone un po' più piccoline, abbiamo delle responsabilità non gestiamo neanche quattrini nostri, quindi abbiamo bisogno di una presentazione più vicina al nostro linguaggio. Allora la mia domanda è ma com'è che non riuscite a collaborare tra professori di diversi dipartimenti? Cioè siete tutti quanti in università in cui esiste anche una facoltà di economia e commercio, esisteranno degli aziendalisti, esistono degli ingegneri gestionali, beh mettetevi insieme, quando venite a trovarci fate coppia, uno scienziato di scienze naturali e un aziendalista, un esperto di bilanci, dopo di che per fare quattro conti è veramente facile, ma molto facile.